Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si fanno quelle strutture dei documenti praticamente al libretto con i numeri di pagina e di margini interni ed esterni. Noi utilizziamo Writer, è più facile a farlo vedere che a spiegarlo, quelle che sono praticamente le impostazioni tipografiche dei libri veri e propri. Allora noi andiamo nel nostro foglio di videoscrittura, andiamo nel menu visualizza e diciamo pagina intera semplicemente per far vedere a casa un po' come si costruisce questo documento. Se noi per esempio invadiamo, vedete, il piedi pagina, noi ci rendiamo conto che viene automaticamente assegnato lo stile di pagina predefinito. A noi in questo caso non ci va bene, noi dobbiamo avere lo stile di pagina sinistra e destra per fare questo tipo di struttura a libretto. Allora dobbiamo usare questa barra qua, premiamo il pulsante, vedete, che viene fuori la barra e noi con le freccine, con le freccine, vedete, la allarghiamo e vediamo qual è il contenuto. Andiamo all'interno della sezione stile di pagina e noi scegliamo di dare a questa pagina non lo stile predefinito, vedete come è etichettato, ma gli diciamo pagina sinistra e doppio clicchiamo sulla scritta pagina sinistra. Vedete che nel piedi pagina viene scritto che questa pagina è praticamente etichettata come pagina sinistra. Noi adesso semplicemente quello che possiamo fare, se andiamo nel menu inserisci, possiamo andare anche nel menu layout che lo troviamo in, vedete, nel menu inserisci lo troviamo qua, inserisci interruzione manuale, stranamente, nel menu layout noi lo troviamo direttamente qua come pulsante, interruzione manuale. Clicchiamo interruzione manuale per creare un'altra pagina, interruzione di pagina, ma qual è lo stile? Ovviamente in questo caso è la pagina di destra. Lo clicchiamo e facciamo ok. Adesso se noi riduciamo, vedete questa finestra qua, la possiamo dopo cliccare, ecco, e riduciamo un pochino lo zoom, noi possiamo dire, cliccando qui le pagine affiancate così vediamo più pagine, noi possiamo vedere, se clicchiamo qua, vedete c'è pagina sinistra come stile e qui pagina destra. Allora noi qui andiamo sempre nel settore layout e diciamo che i margini di pagina non devono essere di questo tipo, ma devono essere rispecchiati oppure specchiati, come dirsi voglia. Le andiamo a selezionare, diciamo qui all'interno gli diamo 4 cm per farlo vedere bene a casa e l'esterno 2 cm. Vedete che se uno seleziona margine rispecchiato o specchiato o a libretto, come dirsi voglia, il margine non si chiama più sinistra e destra, si chiama interno e esterno. E vedete che questa sezione che cosa fa correttamente? Mette il margine più grande a sinistra e quello più piccolo a destra, cioè esterno ed interno. Selezioniamo questa pagina, quindi ci deve essere il cursore che lampeggia e facciamo la stessa cosa, andiamo sempre su layout e diciamo rispecchiato. In questo caso se noi lo ridoppio clicchiamo, noi adesso facciamo, vedete, il margine interno invece a 2 cm, ovviamente il margine esterno a 4 cm. Ed ecco che vedete ci viene questa struttura a libretto in cui non c'è un margine sinistro stretto e un margine destro largo, ma il margine stretto sta all'interno mentre quelli larghi stanno all'esterno. Adesso se io faccio così e seleziono diciamo il piedi pagina, io posso fare il più, entrare, facciamolo un pochino più grande di modo che si veda a casa e qui adesso sì che posso fare il numero di pagina interno ed esterno. Scrivo pagina, faccio invio, vado nel menu inserisci, comando di campo, numero di pagina, vedete 1 e adesso io lo posso mettere liberamente a destra perché vedete è svincolato dal numero di pagina della seconda pagina perché è una sezione diversa definita pagina destra. Quindi anche qui devo entrare nel piedi pagina, faccio più, entro, qui diciamogli sempre il carattere un pochino più grandino da 32, vedete qui scrivo pagina, faccio spazio, vado nel menu inserisci, codice di campo, numero di pagina ed ecco che io ho praticamente il numero di pagina interno, vedete scritto come nei libri e ho il margine stretto all'interno e largo all'esterno e vedete guardiamo che cosa succede, ammettiamo che io vedete sto continuando con invio a scrivere il mio documento, a questo punto se noi vediamo lui lo fa automaticamente, vedete se io continuo a scrivere, noi adesso abbiamo quattro pagine, diminuiamo lo zoom, guardiamolo, vedete ha continuato a fare automaticamente lui la pagina interna e esterna perché? Perché ha capito che abbiamo strutturato il layout con una stile di pagina sinistra nella prima pagina, destra nella seconda pagina, i margini stretti all'interno, larghi all'esterno e abbiamo messo i numeri di pagina all'interno, cioè vicino ai margini, quindi adesso continuando a compilarlo vedete che non solo fa la struttura libretto con margini interni e esterni da solo ma scrive anche il numero di pagina, quindi tutto quello che abbiamo fatto è semplicemente utilizzato nella prima pagina questo strumento, questa barra laterale, siamo andati nel stile di pagina, abbiamo detto che la prima pagina non deve essere predefinito ma deve essere stile di sinistro e la seconda pagina non deve essere predefinito ma deve essere pagina di destra e poi abbiamo inserito i numeri di pagina dal menu inserisci, comando di campo inserisci, l'abbiamo messi nella prima pagina destra e ovviamente nella seconda pagina a sinistra e poi ha fatto da solo, d'accordo? Per inserire i numeri di pagina basta fare codice di campo, numero di pagina. Questo praticamente è il contenuto del tutorial di oggi, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato utile di vostro interesse, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia. Grazie. Grazie.